che cos'è questo? un pallone sgonfo, una sfera, una ruota, no! questa è aria, aria foderata di cuoio, e l'aria vola, hai scomprendi? vola dalle fasce al centro, dalle fasce al centro lei non è un arbitro in fuoriclasse? ci viene al cinema? non lo so, ci devo pensare avevi detto che venivi? solo se vincevi? si però come siamo in momento? allora al cinema non ci vengo, ma è come se c'ero venuta grazie a tutti grazie a tutti